Va a favorire l'alzata di Murray, poi Carut Anderson, Anderson ci prova dalla distanza, 3 a 1, grandissimo gol di Anderson Perin ha provato, non c'è arrivato, si mette veramente male per la nostra Under, non ci crede Noel King Più che altro ripenserà le due sconfitte in casa con la Turchia e in Ungheria, perché questa Irlanda avrebbe meritato di andare avanti all'europea 3 a 1, gol di Conor Anderson Incredibile, ma se veste subito che traiettoria questo pallone aveva preso, ingannando tutti anche da una notevole distanza Che vediamo Sono buoni 35 metri Incredibile, ha trovato l'incrocio Incredibile, ha trovato l'incrocio